Il caso Taranto arriva a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio il Premier Mario Monti incontrerà Regione, Comune e Provincia per una riunione politica sul futuro della città. Il Vertice affronterà i temi connessi al rapporto tra ambiente e lavoro e alla presenza del siderurgico. Presenti oltre al Governatore Nichi Vendola, al Sindaco Stefano, al Presidente della Provincia Florido, anche una delegazione di parlamentari pugliesi tra cui l'ex Ministro Raffaele Fitto e il Senatore del PD Nicola Latorre. L'emergenza Taranto diventa di fatto caso nazionale. Sul tappeto le richieste di una legge speciale per la città, certo e le bonifiche, ma anche la possibilità di prevedere un risarcimento per lo sfruttamento intensivo del territorio da parte delle aziende di Stato, dalla cantieristica navale al siderurgico. Le associazioni ambientaliste intanto lamentano di non poter partecipare, anche dopo aver espressamente richiesto di prendere parte, tavoli in cui si prenderanno decisioni, e in una conferenza stampano rilanciato i risultati della perizia del GIP sul tasso di mortalità connesse alla presenza del siderurgico. In contemporanea alla riunione di governo, i Verdi hanno annunciato un sit-in in piazza Montecitorio, escluse dall'incontro anche le rappresentanze sindacali. Fatto questo, criticato dal segretario nazionale della Ui Luigi Angeletti, che sulla contrapposizione tra lavoro e ambiente ha aggiunto, lo sviluppo di Taranto non può assolutamente prescindere dal futuro dell'industria. A partire dall'Ilva, il più grande stabilimento siderurgico europeo, per questo resta un errore non coinvolgere le parti sociali territoriali in un confronto con il governo.